Non solo vela, Napoli punta anche a diffondere altri sport come l'equitazione e l'automobilismo. La manifestazione vele, auto d'epoca e cavalli si è estesa lungo tutto il territorio marino e terrestre del capoluogo partenopeo. Un appuntamento fatto di storie e di sport, arricchito da auto e carrozze d'altri tempi. La regata aprirà la Kermess. Questa mattina velisti in acqua per mettere a punto le ultime strategie e vincere. Napoli ha una palestra enorme che è il mare. La vela e il canottaggio possono essere dei grandi veicoli per promozionare un'immagine che ha bisogno di eccellenza, ha bisogno di essere riposizionata in un mercato che al momento è molto vantaggioso con i paesi del Nord Africa tagliati fuori dal turismo di massa. Secondo me Napoli può ed è diventato una meta. Questi eventi portano tantissima curiosità in una città che è un po' combattuta, un po' a due facce. Noi siamo fortunati perché oggi siamo nella parte bella. Il mare, le barche, c'è il sole, quindi offriamo ai nostri ospiti il meglio.